ciao ragazzi e ragazze benvenuti benvenuti nella giornata di oggi giovedì giovedì 24 settembre ore 17 orario italiano nonostante io sia in sudafrica pensate ho lo stesso orario come voi oggi vi mostrerò alcune foto che ho scattato qua in sudafrica parecchi anni fa ma le procedure bene o male sono sempre le stesse per chi non mi conosce io sono martin bene sono ben più ambassador ormai da due tre anni fiero perché veramente i monitor della ben più hanno cambiato la vita ai miei occhi poi chi mi conosce già lo sa chi mi conosce già lo sa impostiamo qua ok quindi ragazzi e ragazze oggi parleremo di adobe camera raw intanto siete 103 persone figata vorrei conoscervi uno per uno probabilmente molti di voi già vi conosco 104 sicuramente ci beccheremo in giro allora io ho aperto questa schermata del sito di ben più perché mi piaceva molto una frase ed è proprio questa che vedete qui davanti a voi alla ricerca dell'immagine che hai in mente pensate quanto è importante questa frase per un creativo no vedete ad esempio questo ragazzo che scatta questa foto quando scattiamo una foto del genere e siamo abbiamo la fortuna di trovarci in un posto del genere speriamo speriamo di portare a casa la foto speriamo di poterla mostrare ai nostri amici alle nostre famiglie eccetera eccetera esattamente la scena che avevamo noi davanti ai nostri occhi una buona fotografia di reportage piuttosto che di viaggio piuttosto che naturalistica o quello che sia è in genere definita come una foto che quando la mostriamo ai nostri amici non abbiamo bisogno non abbiamo bisogno di spiegarla ok quindi non abbiamo bisogno di spiegarla non dobbiamo dire guarda io mi trovavo qua la si vedeva questo non ha idea quanto era figo no la foto in qualche modo deve essere in grado di raccontare l'emozione che quella foto trasmette a noi perché noi ci siamo trovati cavolo esattamente in quell'istante e ci ricordiamo questa emozione straordinaria di questi colori come in questo caso dell'aurora e dell'aurora boreale piuttosto che degli elefanti che mentre stava in macchina fermo all'improvviso da dietro agli alberi sono usciti questa famiglia di elefanti e uno ti è passato accanto e tu hai spento la chiave della macchina per spegnere il motore e sentivi sentivi quel passo dell'elefante ad un metro da te e in parte te la sei fatta pure sotto perché è alto 4 metri e hai guardato l'elefante negli occhi e poi sono passati e poi all'improvviso è uscita tutta la famiglia bene questo è cioè riuscire a trasmettere questa roba attraverso una foto è importantissimo e quindi quando io leggo questa frase alla ricerca dell'immagine che hai in mente quanto è importante saper sviluppare quindi l'immagine e vedere i giusti colori ok quindi quello che faremo oggi all'interno di camera raw e creare un workflow di sviluppo di un'immagine in maniera facile in maniera che quando tornate dalla vacanza dal viaggio o quello che vi serve voi siate in grado in pochi minuti in pochi istanti di riportare quella foto a quell'ambiente a quella sensazione che avete avuto in quel preciso istante quando avete scattato quell'immagine è chiaro che ogni immagine sarà soggettiva e io vi potessi dare la mia foto che ho scattato io ognuno di voi delle 113 persone figata qua presi presenti la svilupperebbe in maniera completamente differente perché ognuno avrebbe un'emozione una sensazione di sviluppo personale ed è giusto che sia così quindi io non cercherò nella ora che abbiamo a disposizione oggi di dirvi come andrebbe fatto cercherò di dirvi che cosa andrei a fare io affinché possa far uscire fuori le sensazioni e il mood di quell'immagine perché perché voi sapete bene e tra un po passo a camera raw che si trova all'interno del pacchetto adobe ovviamente quindi se avete photoshop installato avete automaticamente anche camera raw il nostro occhio vede in hdr ok high dynamic range quindi spesso le macchine fotografiche o almeno quella con cui ho scattato io queste foto che è una vecchia 350d canon o esponi in basso e sponi in alto quindi o espongo sul cielo o espongo sui culi degli elefanti non posso esporre entrambe le cose perché nel frattempo gli elefanti vanno avanti e quindi io in camera raw la prima cosa che cercherò di fare è riportare quella sensazione di hdr no quella del high dynamic range che vedevo io in quell'istante con i miei occhi e piano piano da lì cercherò di raccontare in qualche modo la storia così che chi guarda poi la foto possa avere più o meno le stesse sensazioni le stesse emozioni che avevo io quando ho scattato quell'immagine ok un'altra cosa importantissima da dire è che ovviamente ragazzi non prendiamoci in giro queste cose non le potete fare con uno schermo di un computer portatile da 400 euro perché gli schermi economici non professionali virano spesso o sul blu o sull'arancione o sono troppo chiari o sono troppo scuri e quindi non avete mai la garanzia di avere un colore esatto ok che in qualche modo si potrebbe pure aggirare se quella foto la dovete vedere solo voi ma nel momento in cui la caricate sul web succede il dramma a i colori fanno schifo a troppo satura troppo desatura troppo scura troppo chiara poi se la stampi non si vede una mazza perché perché purtroppo nel lavoro che facciamo noi quindi alla ricerca dell'immagine che ha in mente dovete avere uno schermo che sia in grado di restituirvi i giusti colori e questa cosa ragazzi è essenziale è come pensare di andare in macchina e non avere le ruote e come pensare di andare 4x4 e avere una macchina che non riesce andare 4x4 fondamentalmente a una certa rimarrete incastrati ok quindi ovviamente vi invito ad andare sul sito della ben chiudere la parte dei monitor e semplicemente decidere se siete dei grafici vi cercate un bel monitor per la grafica se siete dei fotografi un bel monitor per la fotografia quindi messo in chiaro che dovete avere un setup di un certo tipo per riuscire a fare determinate cose andiamo a vedere ciò che io chiamo i culi più belli del mondo e sono questi risponderò ovviamente a tutte le domande amici alla fine così non interrompiamo il processo bicchiere bicchierozzo d'acqua e andiamo allora come vedete raga io questa foto l'ho aperta apposta perché perché è scattata con una canon 350 d che oggi non è neanche in commercio ok quindi a tutte le problematiche delle camere di nove anni fa 10 10 anni fa all'epoca era una signora macchina questo perché perché la dovete smettere di essere ossessionati con l'ultimissima lente importante che sia una macchina di qualità che riesce a darvi il risultato che vi serve in questo caso a me la cosa che francamente mi serviva era accendere la macchina velocemente e scattare questa meraviglia che avete qua davanti ok questi elefanti sono letteralmente usciti dalla forestuccia che vedete intorno in sudafrica e tutta questa scena si è svolta nell'arco di dieci minuti all'inizio non c'era niente all'improvviso c'era tutto e poi sono spariti di nuovo quindi ovviamente vi dovete trovare nel momento giusto al posto giusto ma ma andiamo andiamo su camera raw allora camera raw 2020 qui sto usando la versione 12.4 è cambiata completamente a me personalmente non fa impazzire questo restyling a me piacevano più i tab così come erano prima ma camera raw vuole avvicinarsi un pochino di più a light room un po più mobile friendly come potete vedere il formatino strizza l'occhio a un eventuale ipad quindi ci teniamo questa situazione abbiamo un menù principale quindi basic curve detail color mix split toning eccetera 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 che sono le sezioni principali nelle quali andremo a lavorare quindi faremo qualcosa all'interno di basic faremo qualcosa all'interno delle curve faremo qualcosa in detail faremo qualcosa in color mix e così via quando abbiamo finito di lavorare qua ossia sulla correzione globale dell'immagine quindi tutto quello che faremo qui si applicherà su tutta la foto potremo andare magari in questo pannellino qui al lato in particolare sul pennello adjustment brush che si può prendere anche col tasto k e andremo a lavorare in in maniera selettiva la domanda è dobbiamo usare per forza tutto no magari a voi la foto piace così ma io quando ho scattato questa foto mi ricordo che c'erano le nuvole c'era un cielo non era così bianco dove sta il cielo quindi questo sarà ad esempio il mio punto di partenza ok il mio punto di partenza è quello di cercare di far uscire fuori un minimo di cielo che c'era all'epoca se sapessi che nel mio flusso di lavoro non ci sarà solo camera raw ma anche photoshop potrei dire sai che cosa c'è il cielo lo sostituirò dopo in photoshop ma visto che noi stiamo facendo una lezione su camera raw tenteremo di fare tutto all'interno di camera raw ok quindi correzione globale ok correzione selettiva fin qua ci siamo allora andiamo ad esempio in basic ma prima di andare in basic vediamo questa parolina profile sarebbe il profilo abbiamo adobe color adobe landscape adobe portrait standard vivid monochrome mettimi tu un profilo che vuoi senza andare troppo nel complesso avete presente quando scattate con la macchina fotografica e sullo schermo vedete dei colori che poi sono differenti da quelli che vedete in camera raw prima assicuratevi di avere un monitor figo come quelli della benq per vedere i colori bene perché non è escluso che il vostro monitor non sia proprio il massimo soprattutto a chi inizia ovviamente per problemi di budget può accadere no e l'altra cosa è che la macchina fotografica in qualche modo associa alla foto un profilo un profilo colore che voi lì per lì non vedete è solo in fase di visualizzazione e molto spesso capita che ad esempio uno di questi riesce ad avvicinarsi a quello che vedevate sullo schermino quindi in questo caso potrei dire sai che c'è non parto da adobe color parto da adobe landscape e lui boom gli dà quella leggera leggera vividezza in più e si comincia a intravedere anche un po la nuvoletta qua in alto a destra ok se non vi piace landscape potete dire portrait e vedete che cosa accade in genere ci prende abbastanza bene questo è un landscape no un paessaggio quindi più o meno mi ha riportato a quel momento iniziale di quando ho scattato la foto bene andiamo a questo punto in basic e a questo punto ragazzi io vi prego abbandonate dalla vostra mente le regole dimenticate le regole pensate alla fotografia come un mezzo di espressione delle vostre emozioni ciò che avete visto in quell'istante tanto la foto è fatta se avete sbagliato la composizione si possiamo ricomporre un po ma se avete da ricomporre 22 mila immagini non lo farete no quindi la foto sta qua cercate di trasmettere le vostre emozioni a questa foto utilizzando semplicemente gli slider che avete qua soprattutto i più tecnici di voi che vogliono sapere il perché e il per come delle cose cercate di staccarvi da questa cosa l'esposizione che cosa fa matematicamente sul file macchette frega basta che sia bello in questa fase almeno all'interno di questa lezione cercate di ragionare così perché almeno riuscite a creare delle belle immagini da subito poi con il tempo andremo andrete ad approfondire ogni singola cosina il perché e il per come quindi il white balance è stato settato a shot come da scatto ma ad esempio voi potete dire ma se lo metto su claudi che succede che succede la foto diventa un po più gialla ha però i miei occhi non vedono la foto così no ma magari è figo così c'è magari vi piace così magari stamparla così è bello e quindi può andare bene ok cercate di non pensare come ho detto all'inizio troppo alle regole ma rimettiamola a shot ok rimettiamola così in temperatura posso gestirmi la temperatura la camera a shot ha deciso che i gradi calvin di questa foto kelvin sono 4850 ossia una tinta leggermente bluastra quindi faceva freddo faceva freschetto effetti effettivamente sì quindi immaginiamo che io voglia trasmettere una sensazione di maggiore fresco e abbasserò la temperatura dell'immagine e ci sembra subito di vedere questi culi un po congelati dal freddo o sennò vogliamo farli sudacchiare un pochino aumentiamo i gradi calvin fino a dire che caldo quindi cerchiamo a occhio di dire che temperatura vorrei trasmettere a chi guarda quest'immagine io avevo freddo ma mi piacerebbe trasmettere un senso una sensazione di africa un po più africa siamo sempre in sudafrica non è che fa tutto sto tutto sto caldo e ragazzi quindi ok quindi andiamo a 5650 martin perché è messo 5650 e non 5.070 è perché mi piace più così ok c'è questo vorrei che fosse il ragionamento che fate in questa lezione la tinta la tinta è una cosa creativa voglio una foto un po più sul verde un po più no non voglio niente di tutto questo lo lascio a zero ok facciamo il test lo slider giochiamo un pochino con il slider e soprattutto ragazzi e ragazze non preoccupatevi una volta che arrivato in basso potete sempre ritornare in alto sono delle regolazioni componibili tra di loro che potete sempre aggiustare in qualsiasi istante non è che fate ok e non potete più tornare su quella cosa l'esposizione come l'esposizione di questa foto la preferivo così o la preferisco così così sono un pazzo così pure però interessante stanno uscendo le nuvole che ho visto con i miei occhi me lo segno cioè il mio quadernino me lo segno ok ricordiamoci dell'esposizione però per ora mi sembra che questa esposizione vada bene così per parlare dell'istogramma ragazzi ci servirebbe parecchio tempo ok ma vi svelo una cosina che sono stato tra l'altro tra i primi in italia a introdurla all'epoca insieme a un altro paio di persone oggi probabilmente già la conoscete se tenete premuto il tasto alt oppure option e cliccate sullo slider che cosa carina che esce fuori ok praticamente possiamo andare a scoprire il primo punto di luce all'interno di questa immagine ma appunto questo lo lasciamo per magari una lezione specifica su questa cosa lo ribadisco oggi lasciamo lavorare il creativo che c'è in noi il contrasto sento l'esigenza di aumentare il contrasto probabilmente sì probabilmente no notate come quando vado ad aumentare il contrasto si chiudono i neri ok quindi vado in qualche modo ad irrigidire la foto qual è quindi l'emozione che voglio trasmettere un'emozione di crispy di croccante o una cosa più soft più magica un po più blanda e in base a questa cosa senza neanche guardare lo slide lo slider vado a cercare di conferire all'immagine quel più 18 che mi piace ragazzi stiamo sviluppando la foto non siamo degli ingegneri ok le alte luci le ombre i bianchi e i neri le alte luci e le ombre possono essere aperte o chiuse che cosa vuol dire ad esempio se io voglio aprire le ombre vuol dire che voglio visualizzare più dettaglio all'interno delle ombre quindi vado a destra le apro e vedo più cose all'interno delle ombre invece le chiudo vuol dire che voglio che le ombre siano più scure e quindi le chiudo ok quindi anche qui andiamo semplicemente a vedere che effetto voglio far uscire fuori e ricordatevi che abbiamo una zona delle correzioni selettive mentre io sto facendo così avanti e indietro la mia mente sta guardando quest'area nella quale sto pensando ma potrei aprire quella zona un po di più non qua ma dopo in maniera selettiva ok quindi tenete sempre a mente anche la possibilità di intervenire dopo in modo selettivo invece le alte luci esattamente la stessa cosa con le alte luci posso aprire le luci o chiuderle un po e quindi vedete comincio a recuperare parzialmente il dettaglio nel cielo quindi che cosa faccio boom le tiro giù così e per gli amanti dell'istogramma vado in qualche modo a creare un istogramma un po più carino ma questo è l'ultima volta che parlo oggi dell'istogramma voglio dare a tutti la possibilità di creare una bella immagine e quindi concentriamoci sull'aspetto artistico creativo ed emotivo white i bianchi che cosa fanno i bianchi beh posso opacizzare o brillantizzare i bianchi ok se mi sentono dei colleghi rabbrividiscono con i termini che sto utilizzando adesso però il mio obiettivo era quello del cielo recuperare un pochino il cielo quindi provo a farlo qua direttamente un pochino nelle impostazioni generali ben sapendo che lo potrei fare poi selettivamente solo col pennello e i neri posso opacizzare un po i neri oppure rafforzarli un pochino una sorta di contrasto ok ho questo occhietto qui in alto posso vedere il prima e il dopo ok prima e il dopo ok andiamo a vedere la texture cos'è la texture la texture è una bella funzione che qualche anno non c'era è un'impostazione che mi permette di croccantizzare la texture del sedere dell'elefante ce lo posso riportare a quella sorta di croccantezza che aveva all'epoca e scopro che non ero riuscito a mettere per perfettamente a fuoco questa foto e mi viene voglia di piangere ok poi posso abbassare la texture e sfoco in qualche modo quest'immagine perché magari voglio creare un effetto illustrato alla fine questo lo sapete voi la texture magari la portiamo un pochino a metà non voglio eccedere troppo perché poi mi si texturizza anche tutto intorno non mi interessa in questa fase la chiarezza la chiarezza aumenta in qualche modo la croccantezza della foto quindi un po quello che ho fatto con i neri quello che ho fatto col contrasto quello che ho fatto con la texture un modo di aumentare una sorta di tridimensionalità all'interno di questa foto ragazzi e ragazzi non esagerare non create robe come queste queste robe non trasmettono nessuna emozione è troppo un pugno nel nell'occhio ok cercate di creare un qualcosa di reale di ciò che hanno visto i vostri occhi in quel istante i vostri occhi non hanno visto quelli questo ok quindi una roba del genere voglio che cominciate a sentire l'odore della cacca per terra scherzo ok di reis allora il di reis è stato aggiunto per togliere la nebbiolina atmosferica nelle foto è stata una grande gioia da parte della community dei ritari toucher come me in realtà l'ho usato molto poco ma il di reis è figo perché non solo toglie la nebbiolina ma la cosa bella che fa aumenta maggiormente il contrasto ragazzi questa foto è bellissima pubblichiamola su instagram non lo fate perché ovviamente non si può che quindi di reis può dare un tocchetto tocchetto di togliere quel quel qualcosa che che ci piace ok quindi togliamo un pochino questa sorta di patina biancastra di quel più 4 per cento ma martin ma se non lo tocchi non succede niente e quella finezza raffinata che non sono neanche in grado magari di vedere se non ho un buon monitor ok ovviamente quando lavorate su progetti professionali ragazzi monitor no perché poi magari la roba va in stampa campagne pubblicitarie cose non potete sbagliare vibrance e saturation allora la saturazione lo sappiamo tutti la saturazione in qualche modo aumenta la brillantezza del colore la saturazione del colore il bello di farla in camera raw è che non spacca i pixel invece se fai una cosa così in photoshop succede il disastro no si aprono letteralmente i pixel quindi posso aumentare un pochino no cerco sempre di andare verso ciò che mi ricordo di aver visto con i miei occhi e il vai il vibrance è molto simile è una sorta di brillantezza del colore però posso anche abbassare la brillantezza del colore quindi dico voglio far pensare voglio che le persone pensino che la vegetazione era molto verde ma se volessi fare una cosa realistica ragazzi io la vibrance la abbasserei perché in realtà in questa zona del sudafrica che laddo park non la zona non è così verde in realtà è parecchio secca in determinati momenti dell'anno se vi spostate di cinque chilometri da questa zona c'è il nulla ok quindi andiamo sempre nella direzione dello storytelling e come potete vedere ho mosso un sacco di slider che potrebbe muovere anche una persona che appena è iniziato e la foto comincia comincia a essere molto più carina rispetto che era prima e mi trovo solo nel basic ok ragazzi mi trovo solo nel basic quindi una grande figata una grande figata vado a verificare se mi state vedendo tutti bene tutto a posto ok andiamo nelle curve o la possibilità di utilizzare le curve chi tra di voi sta iniziando adesso gli viene il terrore o madonna le curve non preoccupatevi non c'è di cui avere paura se siete agli inizi lasciatele perdere non preoccupatevi non sono necessarie col tempo le imparerete ad amare e scoprirete che in realtà sono molto molto utili e molto interessanti ad esempio se io vado a creare un strong con i contrast la curva assume questa tipica forma ad s e la foto all'improvviso avrà molto contrasto se lo metto su linear la curva assumerà la forma di una linea e non avrà più il contrasto ok quindi fondamentalmente io qui dentro posso gestire il contrasto la luminosità i colori posso gestire tantissime cose ma è uno strumento professionale e chi inizia potrebbe spaventarsi un pochino vediamo giusto per chi proprio vuole dire che martin ma con ste curve ma io che ci posso fare andiamo a vedere ad esempio questo punto nero qua in basso quando io il punto nero lo porto in alto all'improvviso il punto nero trasforma la foto in bianco perché io sto dicendo i neri non devono essere più neri ma devono essere bianchi e quindi ovviamente tutto diventa bianco se quindi volete ad esempio con l'effetto opaco tipico dei filtri di instagram potreste aumentare un pochino la curva in modo che i neri non siano più completamente neri ma siano leggermente opachi esagero un pochino questo effetto così lo vedete ok quindi potrei fare questo e allo stesso modo potrei abbassare anche un pochino i bianchi e a quel punto per i più esperti possiamo creare una curva ad esse qui in mezzo e creare un bel contrasto opacizzato tipico dei filtri fighi di instagram per chi di voi si occupa di fotografia wedding provatelo a fare sulle vostre foto ma vi pagheranno il doppio scherzo però otterrete quei look molto belli tipici dei wedding editoriali belli 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 ok quindi provate provate utilizzatelo e poi mi direte ovviamente possiamo entrare anche nei singoli colori quindi posso gestire il colore blu il colore verde il colore rosso vediamo che cosa succede con il rosso finalmente ci hanno detto che qui ci sono rossi qui ci sono questi quindi se alzo la curva in alto la foto diventa più rossa se la basso vira su quest'altro colore a che cosa serve effetti creativi per lo più voglio creare ad esempio un color look che fa un qualcosa del genere adesso finalmente lo posso fare ok sto andando in maniera molto semplicistica perché voglio mantenere le cose molto semplici però con le curve possiamo andare a creare dei color look dei color ton estremamente estremamente professionali estremamente interessanti facciamo ad esempio una cosa seria resto nelle tonalità blu voglio rafforzare un pochino i gialli e magari abbasso semplicemente un po la curva voglio raffreddare un po la foto alzo la curva i più attenti tra di voi mi diranno martin allora potresti andare direttamente nella temperatura ottenere più o meno lo stesso effetto assolutamente sì la stessa cosa può essere fatta in tanti modi differenti quindi le curve in questa fase vi direi utilizziamo le semplicemente se volete aumentare un pochino di più il contrasto all'interno delle vostre immagini ma io vi dico la verità io neanche lo farei probabilmente su questa foto perché ho già ho già abbastanza contrasto rispetto a quello a quello che mi serve e l'ho creato all'interno del tab basic ok quindi non per forza dovete sempre utilizzare tutti i tab ci stanno è importante che sappiate che esistono se ve la sentite e li volete usare li potete utilizzare se no non è necessario il tab detail dei dettagli è molto controverso vi spiego perché spesso la maggior parte delle persone sviluppa una prima parte della foto in camera raw e poi la passa in photoshop quindi se il vostro flusso di lavoro presuppone un passaggio in photoshop il tab detail vi direi di lasciarlo perdere perché semplicemente se aumentiamo la nitidezza cominceremo a far uscire fuori anche il rumore della foto che è questo non va bene questo non va bene ok quindi se volete lavorare in solo in camera raw fate un grande zoom e fermatevi quando cominciate a vedere la foto spappolata a termine tecnico garantisco io ok quindi attenzione ai pixel qua ovviamente entra un po in gioco il discorso iniziale questa foto è fatta con una canon 350d con tutte le sue limitazioni di sensore eccetera eccetera quindi più avete una macchina fotografica buona e una lente buona ovviamente meno problemi in fasi come questi avrete ok però la foto c'è insomma noise reduction possiamo quindi eliminare un po quel noise quella grana che abbiamo creato e la stessa cosa all'interno del color noise però non entro adesso nel vivo di questa cosa perché sarebbe un po come parli parlare delle curve la cosa appunto che vi consiglio io arrivate a un livello di sharpening tale nel quale siete abbastanza soddisfatti non toccatelo se poi dovete andare in photoshop perché voi volete entrare in photoshop col minor noise possibile e immaginabile perché poi tanto ci pensa l'amico photoshop a introdurre del noise ok quindi lo basso addirittura ancora un pochino 55 ok una roba del genere ok mi state seguendo come il flusso di lavoro è molto creativo è praticamente aperto a qualsiasi persona anche a chi non ha la cognizione di causa come funzionano tecnicamente gli strumenti di sviluppo delle immagini color mixer come dice il termine stesso ci aiuta a mischiare in qualche modo i colori a giocare con i colori ok ok allora hsl che cosa vuol dire ragazzi use saturation luminance ok quindi possiamo andare in use saturation luminance o semplicemente andare a gestire i singoli colori partiamo da hsl ok quindi use saturation illuminance oppure li possiamo vedere anche tutti insieme io preferisco vederli sono vecchio ragazzi preferisco vederli uno per uno come era prima quindi che cosa voglio fare qua qua sto nel tab del colore e qui che ve lo dico fa un buon monitor ben più serve ancora di più perché se voi mi fate uno spostamento del yellow del 8 per cento e avete un monitor che non ve lo mostra no ve lo date in faccia non vi serve niente quindi raga mi raccomando se lavorate col colore fatigli fate i seri insomma e sapete quello che dovete fare allora saturazione che cosa voglio fare io adesso con questi colori che cosa sento sento che questi verdi sono un po troppo verdi non erano così verdi sono un po quasi artificiali quindi posso andare a giocare sulla tonalità sulla saturazione e sulla luminanza la luminanza martin che immaginate come una sorta di contrasto del colore lo vedrete tra un po è una figata allora saturazione magari sai che c'è abbassa un po i verdi passando i verdi non è che si abbassano tanto sai perché perché quando vuoi andare intervenire sui verdi in realtà parti dai gialli un po come la borsa ikea no voi la voi la borsa gialla prenditi quella quella blu vuoi cambiare i verdi canne cambia prima i giallino quindi comincio ad abbassare i gialli ed ecco qui che riesco in qualche modo ad agire molto meglio su quello sull'effetto che volevo ottenere io sto abbassando un po quel colore assurdo ed esagerato di questa scena se all'incontrario volessi far finta che stavo in un posto cinematografico dove questi verdi erano sparati e pompati al massimo andrei ad esempio in questa direzione ok quindi dovete decidere qual è il mood che volete dare alla vostra immagine se andare verso un mood più naturale o un mood più pompato cinematografico o far finta che che vi trovavate in un posto in un posto che poi non non era lui magari ok ragazzi quindi fake it no se lo volete far finto lo potete fare finto se no no e per questo è buono avere un piano iniziale no dire quindi andiamo sui verdi sparati pompati oppure no in questa fase io vado ad esempio va bene dai ragazzi spariamo lì un pochino così ci divertiamo facciamo finta che era così che allora sto sempre nei verdi adesso andiamo a controllare la tonalità di questi verdi cioè io voglio che questi verdi siano verdi tipo così o verdi tipo autunnali no voglio far finta che che stavo nel paese di alice delle meraviglie quindi creando dei verdi assurdi come questi e poi tutti su instagram mi dicono bravo martin che belle i bei colori oppure voglio dire che stavo in sudafrica in autunno e quindi tutto era un pochino più giallo e quindi abbasso ulteriormente la saturazione così oppure voglio togliere la saturazione del tutto e lasciare solo gli elefanti del loro colore iniziale cioè capite sto lavorando coi singoli colori questa cosa è meravigliosa ragazzi io utilizzo photoshop da vent'anni e ancora oggi mi diverto migaso c'è io sono proprio così cioè sono sono emozionato di fronte a questa foto perché mi diverte un casino e magari voi pensate stampate la foto così su un supporto tipo legno e sembra una foto tipo quale fine art non quelle cose là comunque restituiamo un pochino dico o lasciamo il green a terra e alziamo solo i gialli guardate cioè guardate che che felice guardate che meraviglia è bellissimo e e quindi io vi dico ragazzi io i verdi li lascio quasi a terra e già lì aumento c'è lo vedete il progress lo vedete il io vi potrei riregistrare questo corso inventandomi la supercazzola per cui i gialli li ho portati al massimo e i verdi al minimo ma la verità è che è un processo creativo riscopriamo quell'estro creativo che vi ha fatto venire voglia di scattare le foto cioè riprendete la voglia di portarvi la reflex con voi e non il cellulare perché la potenza del formato raw lei la quantità di colori che potete catturare e vedere poi sui vostri monitor vi farà venire voglia di buttare il monitor da 150 euro che ci avete e di prenderne uno serio da 1000 euro perché poi vedete questi colori col profilo adobe rgb che che ve sentite male però vabbè qui sto andando un po troppo mi sto gasando da solo allora quindi i gialli aggiustiamo la saturazione dei gialli vediamo un po non ci crederà nessuno che erano così però a me ragazzi questa direzione mi piace sento che la scena era più o meno così mi sembra quasi di ricordare me stesso nel fuoristrada quando quell'elefante questo qua ci è passato accanto molto bello ok quindi ho finito con i verdi andiamo a vedere cosa succede con il blu e prima di lavorare con il blu vi mostro la luminanza gli acqua e il blu guardate che succede se abbasso gli acqua vedete recupero una sorta di contrasto e se li aumento ok quindi acqua scuri acqua acqua azzur ok così e i blu bello allora quel cielo c'era non era così opaco era molto più bello non era così ma non era neanche così quindi era magari una roba del genere ok e a questo punto dico ok abbiamo recuperato un blu andiamo sulla saturazione e pompiamo un pochino col blu cioè cerchiamo di trovare il colore che c'era non era così ma probabilmente era una cosa come questa vediamo se gli acqua mi danno una mano sì e andiamo sulla tonalità vediamo questa la tonalità di quel blu era più violaceo no non stiamo su marte era più così no non ci siamo presi un funghetto dall'africa ok una roba del genere questo può andare bene c'è bisogno di toccare gli altri colori prova red che cosa cambia il red non fa assolutamente niente ma abbiamo gli orange se conoscete bene photoshop sapete che i colori che abbiamo in photoshop quindi la possibilità della gestione dei colori non agli arancioni non agli atti gli acqua quindi qui abbiamo gli arancion gioni quindi possiamo lavorare sugli elefanti ritrovare il colore di quegli elefanti quindi andiamo a vedere il contrasto di questi elefanti il contrasto di questa strada è la tipologia dell'arancione dell'elefante ad esempio una roba del genere ok quando arrivo ad esempio qua che comunque ragazzo quasi 40 minuti che stiamo fa questa cosa mi alzo e mi vado a fare un caffè e mentre mi bevo il caffè cerco di pensare a quest'immagine dico che come sarebbe c'è sto andando verso il mio obiettivo che la persona che vede poi la foto dice marty mazza che che fortuna che hai avuto per non dire ok color mixer per ora lo abbiamo chiuso qua split toning la divisione dei toni la separazione dei toni che cosa vuol dire come ben sapete le foto sono composte da alte luci e da ombre facciamolo in maniera discursiva più file più facile da luci e da ombre da colori chiari e da colori scuri no quindi qui posso iniettare un colore in una di queste due aree ritorniamo un attimino nelle curve fermi fermi ma se io vado nei rossi e prima avete capito che qua ci sono i neri quindi neri dei rossi sono neri ma se io gli dico che i neri devono essere rossi i neri cominciano a essere rossi ma se io voglio i neri blu vado nel blu e invece di stare nella zona dei neri gli dico guarda bello che i neri devono essere blu effetto instagram ok andiamo a fare più o meno questa cosa è per quello che non mi sono soffermato sulle curve perché prima vi voglio far capire a livello creativo di che cosa stiamo parlando e poi magari in una delle prossime appuntamenti lo vediamo sulle curve quindi io ad esempio dico io voglio che le ombre siano blu ok eccole qua perché non sono ancora blu perché la saturazione sta al minimo non si vede aumenta la saturazione e vedrai che le ombre sono blu è lo stesso effetto delle curve non proprio non è esattamente la stessa cosa ma vi ho voluto far vedere il paragone per farvi capire come molte cose possono essere fatte in modi simili e ottenere risultati simili non uguali ok quindi possiamo dire creiamo un effetto creativo per cui le ombre sono in questa zona aumentiamo 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 e che cosa stiamo facendo una cosa simile a quella che abbiamo fatto all'inizio riscaldando la foto nel modulo basic con la temperatura ok e se cambiamo i colori beh cambia completamente la percezione di questa immagine stiamo applicando praticamente i filtri no i colori se la saturazione sta a zero qua non cambia niente le luci iniettiamo un colore in genere nelle luci lo possiamo fare ma ragazzi ve lo dico da subito viene una schifezza non è bello lo facciamo magari nel bianco e nero ma neanche lo farei in casi molto specifici l'ho insegnato in qualche corso in qualche lezione ma nella maggior parte dei casi i highlights non li toccherei farei proprio solo sugli shadows ok quindi solo sulle ombre decidiamo guarda voglio ecco questa leggera tonalità in più velori ti ricordo se non state vedendo l'applicazione di questa tinta il monitor non vi restituisce quella possibilità ok e qui ovviamente posso decidere se dare più importanza agli highlights alle luci oppure alle ombre ok quindi che cosa facciamo gli diamo un pochino di qualcosa sì 41 e 8 martin perché hai fatto così perché mi sembra che è un pochino più figo ok quindi split toning l'abbiamo visto optics allora optics è una cosa molto figa quando vi occupate di fotografia architettonica potete letteralmente distorcere e la vostra lente e cambiare quindi poi di conseguenza la geometria dell'intera scena al fine del webinar di oggi non sono cose che andiamo a coprire ma giusto per farvi capire vedete come sta distorcendo l'intera immagine ok quindi possiamo giocare semplicemente un pochino con questa cosa quello che ci interessa qui però è la vignettatura allora la vignettatura è questo bordo scuro oppure la rimozione di quel bordo scuro finché non diventa invece completamente bianco quindi una vignettatura scura è una vignettatura chiara ok la vignettatura che cos'è è un difetto della lente ok quindi non è una cosa corretta però è corretta dal punto di vista della composizione perché se io la rimuovo un pochino vedete ai bordi sta cominciando essere più chiaro il mio sguardo si allontana in qualche modo dal centro dell'immagine la vignettatura quindi uno scuro ai lati ci aiuta il nostro sguardo a entrare dentro la foto sicuramente già lo conoscete questo sono regole di cui ormai parliamo da oltre 10 15 anni però magari tra di voi c'è sempre qualcuno che inizia adesso quindi sappiate che anche quando a quando avete la vostra app sul cellulare c'è sempre il pulsantino aggiungi vignettatura se aggiungete la vignettatura ai aiuta a indirizzare lo sguardo verso il centro della foto ok in questo caso a me non mi interessa moltissimo perché francamente non mi piace l'effetto che crea all'atto ok quindi geometria optics geometri effetti effetti possiamo aggiungere un po di grana un po di grana ragazzi dice martin si vede che sono sei mesi che sei in il lockdown allora aggiungendo la grana guardate guardate che bella grana fine che è stata aggiunta ovviamente l'ho aggiunto al 100 per cento non fate questa cosa don't try it at home mettiamo una grana più leggera perché così la foto è quello che con un pochino di grana in più la foto acquisisce quel fascino della pellicola ok esistono poi dei plug in che fanno una grana più o meno bella meglio e bla 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 ma la grana conferisce quel difetto tipico della pellicola che al nostro occhio piace faccio una piccola parentesi ragazzi e ragazze come sapete io lavoro molto nel ambito advertising mischio la cgi il 3d con la fotografia spazio moltissimo come dico sempre quello che dovete sapere è che alla nostra mente piacciono le imperfezioni le imperfezioni sono un qualcosa che rendono gli oggetti e le immagini interessanti siamo sempre più colpiti e incuriositi da un qualcosa di imperfetto piuttosto che da qualcosa di per perfetto se voi disegnate ad esempio un cerchio perfetto è chiuso sarà una cosa banalissima se invece lasciato il cerchio aperto alla vostra mente piacerà giocare tra virgolette con quel segno gravi grafico ok quindi stimolate in qualche modo la vostra mente anche qua ad esempio se le code di questi elefanti fossero tutte perfettamente dritte sarebbe una cosa noiosa col fatto che le cose in qualche modo sono disordinate questo crea quel quel disordine imperfetto che che rende l'immagine interessante è lo stesso motivo per cui io in genere vi sconsiglio di creare inquadrature come queste dove il soggetto sta al centro dell'immagine perché è boring è noioso ok c'è quest'immagine non è interessante dal punto di vista della composizione ma funziona così perché la famiglia stava lì ma dal punto di vista di composizione non è interessante ok quindi la grana aiuta a inserire nella foto questi elementi di imperfezione tipici della pellicola che aiutano a farla piacere di più al nostro sguardo al nostro occhio motivo per cui chi si occupa di rendering 3d cerca sempre di sporcare in post produzione o se usate dei render engine come corona l'ho fatto lo fate direttamente la di inserire qualche imperfezione per far sempre i rendering meno perfetti e più vicini ad una foto dall'altra parte invece il fotografo è ossessionato con la pulizia e vorrebbe eliminare la grana più che può secondo me è una cosa filosoficamente sbagliata perché proprio la grana che rende la foto interessante ok ovviamente non si deve esagerare se no poi non si vede niente però quel poco di grana arriva alla nostra mente e la nostra mente è felice e nutrita da questa piccola imperfezione ok quindi è anche qui ovviamente posso aggiungere la vignettatura però come avevo detto prima a me non mi fa impazzire su questa foto quindi per quanto io amo le vignettature non la inserirei calibrazione allora questo tab lo temono tutti e il terrore della gente calibrazione no che mi metto a calibrare i colori già per poco non capisco come calibrare il monitor ti pare se mi metto a calibrare i colori metti che succede qualcosa di strano non dovete avere paura sono solo dei slider se io porto questo slider completamente a destra gli dico spara gli arancioni questo completamente a sinistra potrei fare la post produzione di transformers no perché andiamo nel teal and orange o ecco qui che abbiamo capito come si fanno quegli effetti fighi su instagram che utilizzano tante persone ok quindi se volete il famoso effetto teal and orange andate in calibration rossi sparate la tonalità completamente verso gli arancioni i blu primari completamente a sinistra e otterrete quell'effetto teal and orange a questo punto che cosa potete fare beh se non vi sta bene questo arancione potete andare nel color mixer e dire sai che c'è sto arancione non è che mi piace e tanto tanto abbassiamo un po la saturazione dell'arancione e magari anche il tipo di tonalità quindi avete visto sono arrivato giù in fondo e sono risalito su per aggiustare cose che ho modificato e quindi dovevo riaggiustare ok torniamo con ctrl z o command z un pochino indietro non voglio fare l'effetto teal and orange non mi interessa e quindi riportiamo la nostra foto qui però adesso riportando la foto indietro mi piace però un pochino più feicona mi piaceva quindi aumento un po questi rossi primari così e sai che ti dico la scaldo un pochino di più ok quindi col senno di poi ritorno sui miei passi e riaggiusto un pochino alla foto ho usato quasi tutti i tab che ho a disposizione e la foto potrebbe finire anche qua ma vi voglio far vedere un ultima un ultima cosa un paio di cose ed è ad esempio questo cerottino qua che il spot rimuva al tool che mi permette di eliminare delle imperfezioni dalla foto ad esempio questo spot qua quindi size abbasso size clicco qui lui mi fa vedere un altro puntino che mi dice sai che c'è potrei prendere le informazioni da qua che ne dici io dico ah sì figo se no no guarda prendimi le informazioni da qua sostituisce e mi colona quella parte quindi anche in camera raw da un bel po di tempo a questa parte posso fare delle clonature interessanti questo tool ragazzi ce l'avete anche nella maggior parte delle applicazioni sui vostri cellulari solo che state con il ditino e ovviamente non potete farlo bene e tra l'altro sui cellulari non vedete i colori bene come li vedete su monitor di qualità quindi questo è il cerottino ok possiamo anche sfocare ovviamente quella zona ma andiamo a vedere la se la la just and brush la correzione selettiva o il filtro graduato ad esempio ma andiamo nella correzione selettiva che secondo me è la cosa più interessante nel momento in cui ho cliccato sul pennello si apre vedete c'è scritto brush adesso se torno sulle impostazioni qua in alto va nel edit globale se vado nel brush vado solo nel pennello questo vuol dire che tutte le applicazioni che ho qua ok verranno applicate solo alla zona dove ho colorato col mio pennello come prima cosa posso decidere la dimensione del pennello la sfocatura del pennello il flusso e la densità lasciamo stare adesso questa cosa quello che dovete capire è fondamentalmente adesso che quando io pennello col pennello lui sta definendo un'area ok quest'area viene colorata di rosso per farvi vedere che ho colorato in quella zona ma non è che sarà ovviamente rossa infatti qua mask options è attivo se lo disattivo la maschera non si vede più ma c'è ed è collegata a questo tag qui posso ovviamente cambiare il colore è inutile che ci clicco su do per scontato che lo sappiate posso eliminare una parte della maschera quindi premo sulla gomma da cancellare no mi sembra quasi inutile che ve lo dica aumento il feder quindi la sfocatura sfumatura in modo da andarci un po più leggero e non creare un bordo completamente netto nella fotografia nella post produzione in genere dovremo cercare di creare delle sfumature e a questo punto che ho creato la mia maschera la vedo capisco che più o meno quella la zona tolgo mask options e vado nei nel mio edit selective selettivo questo cosa vuol dire l'ho detto prima che se io abbasso l'esposizione lui la bassa solo al cielo quindi voglio fare il cielo di mordor lo posso fare così ma non sarebbe realistico non è quello che volevo fare io secondo il mio piano iniziale mi ricordo però che shadows se lo abbassavo mi recuperava qualcosa e invece in questo caso non me lo recupera più andiamo a vedere highlights forse erano i highlights no ok così vado un po meglio vediamo i blacks che cosa mi fai non mi piace neanche tu andiamo su di ace se di ace mi aiuta o di ace mi sta aiutando quindi togliamo questa patina di nebbiolina dalle nuvole e mi sta aiutando un po clarity facciamo il cielo bello arrabbiato oppure no gioco ok texture aumentiamo la texture sul cielo sarebbe un po stupido perché il cielo è bello paffutello no quindi non creiamo cose innaturali che non ci sono noi vogliamo che lo sguardo di chi vede la foto si concentri sui culetti degli elefanti quindi non vogliamo creare troppo contrasto nel cielo noi vogliamo che lo sguardo vada sugli elefanti quindi non creiamo un contrasto eccessivo nel cielo non ci serve a tirare troppa attenzione in quella zona e ovviamente possiamo andare a lavorare su sharpness sul colore sulla saturazione dell'intera area o un altro strumento a disposizione sotto il pennello ed è questo graduated filter ok è una sorta di per chi non è fotografo non ha idea di cosa sia il filtro graduato ma immaginiamo che è una sorta di pennellata che è presente solo in questa zona ok eccola qua e quindi io invece di pennellare col pennello posso dire guarda solo questa zona deve essere affetta dal contrasto o dall'esposizione ok e quindi lui mette più esposizione qua in alto più effetto no più editing quello che faccio in alto e man mano lo diminuisce la sua forza mentre che mentre che mi avvicino sono su questa riga verso il puntino rosso quindi la forza massima è sopra il puntino verde svanisce completamente dopo il puntino giallo quindi se io voglio continuare a lavorare in qualche modo sul cielo lo potrei fare con questo strumento qua se chiunque di voi in questo istante ha sentito che le cose si stanno complicando un po' troppo lasciate perdere questa zona e ritornate nel globale nelle correzioni globali entrate qua quando realmente sentite l'esigenza di andare a ritoccare i dettagli i singoli dettagli in camera raw come ad esempio ho detto all'inizio potrei voler magari schiarire in camera raw questa zona qua quindi mi imposto il size quindi la dimensione del pennello così dipingo la gamba vedo in mask options se ho dipinto bene probabilmente anche troppo e adesso apro un pochino le ombre magari per schiarire un pochino quella zona dovrei vedere eccola qua ci sta mettendo un pochino un po di lag perché stiamo registrando e lo sforzo sul computer sul processore c'è ok oppure potrei scurirlo ok per assurdo potrei gestire ogni singola gamba dell'elefante per creare un effetto ottico molto più contrastato e molto più drammatico immaginiamo di aver fatto di aver creato un mood quindi questa post produzione e la voglio applicare a tutte le altre mie foto accattate in questa situazione basterebbe andare quindi nei preset e salvare quindi questa cosa nei miei preset ok scusate devo spostare un attimino un pulsantino non riesco a spostare ok quindi se io volessi salvare il preset mi sono perso il pulsantino del preset vabbè raga scusate mi sono perso un secondo il pulsantino del preset perché c'ho l'interfaccia che non è coperta dal dall'interfaccia del webinar poi ve lo mostro salvo quindi tranquillamente il preset il preset mi appare qua sotto e quindi io automaticamente sto cercando intanto di spostare quel pulsantino ma non ci riesco posso tranquillamente salvarmi il preset e poi quando mi apro le altre foto posso semplicemente cliccare ad esempio su modern e questo preset viene semplicemente applicato direttamente a tutte le foto in batch vi faccio vedere un'altra cosa un'altra immagine poi andiamo in chiusura ed eccola qua questo ad esempio è il classico esempio qua a cape town dove ho scattato questo cielo ma mi manca completamente l'informazione in basso quindi basta che vado su basic e dico shadow apriti sesamo ok e mi apre tutto il paessaggio che all'improvviso che prima non si vedeva voglio caricare il cielo vedete ad esempio così quindi vado semplicemente a definire tutto l'aspetto di questa immagine e qui andrei ad esempio sullo strumento che avete visto prima farei un gradiente come questo e andrei a definire ancora di più questo sky con tutte le sue proprietà entrando quindi poi nel color mixer e andando a gestire poi i singoli colori per creare un cielo super mega drammatico tipico di cape town ok quindi semplicemente ragazzi andate a giocare andate a giocare con le vostre immagini alla fine vi ho messo anche questa mia questa mia immagine quindi martin martin non c'è martin c'è ok quindi questo è la forza delle shadows ad esempio posso chiudere completamente tutto o aprire completamente tutto io abito qua giù ragazzi in questo istante mi trovo qua giù accanto a queste torri il sud il sud africa sta per aprire le frontiere adesso il primo quindi prenderò il primo volo per l'italia appena appena ce lo permetteranno allora apro adesso l'interfaccia un attimino vado a vedere se ci sono delle domande allora devo riuscire ad allargare non scusate ragazzi c'è un po di problema con questo interface allora non fa niente allora partiamo allora chiara ha scritto che non mi sente mi dispiace chiare mi vedrai nella registrazione e lì vado dal basso e scusatemi elisa dice altra domanda hai detto che giustamente i colori sul cellulare non sono comparabili a quelli di un buon display mentre invece per gli ipad pro il discorso cambia parlo nello specifico degli ultimi due modelli allora guardati ti dico la verità non ho idea di che specifiche abbiano gli ipad pro quindi non ti saprei dire su che su che spazi colore girano ma quando devi andare in produzione il tuo flusso di lavoro ad esempio è composto da un flusso di lavoro adobe rgb tu devi avere un monitor in grado di mostrarti con lo spazio colore così a occhio ti direi che un ipad pro non è in grado di gestire lo spazio adobe rgb ma potrei anche dirti una cavolata non non sono degli schermi che prendo come riferimento l'unico l'unico caso in cui li prenderei come riferimento è se sono un'agenzia di marketing allora a quel punto mi servono degli schermi in grado di riprodurre lo spazio colore srgb al 100% ok è così mi assicuro che su tutti su tutti i dispositivi il prodotto che sto facendo uscire fuori io sia coerente chiara dice martin potresti farvi vedere velocemente velocemente il team and orange per favore chiare non te preoccupate te lo faccio vedere subito basta che vai basta che vai su calibration red primary a destra blu primary a sinistra fai questo qua e quindi i colori rossi diventeranno arancioni e i blu diventeranno verde acqua ed ecco qui che ha il team and orange forever elisa ancora grazie a molti per questo webinar è super interessante dai e dai e vorrei sapere per un neodiplomato quale potrebbe essere una tariffa accettabile per fare un lavoro come quello che ha appena fatto in un'ora elisa se ti rispondo succede un puttiferio scrivimi in privato su facebook e magari ne parliamo allora è un argomento estremamente ampio è un argomento estremamente ampio quello che faccio io in un'ora magari un'altra un neodiplomato magari lo fa in tre un conto è se quella foto la ritocca martin un conto è se la ritocca gg perché magari martin collabora con brand come lamborghini o altri e gg è appena uscito dal corso e non viene riconosciuto come un esperto quindi magari martin è in grado di chiedere 120 euro all'ora e magari gg non ne può chiedere neanche 10 ok quindi è troppo effimera come cosa per darti una risposta puoi chiedere 50 euro a foto 30 euro a foto io la cosa che ti dico chiedi quello con cui ti senti felice di lavorare per dare un valore ai tuoi studi alla tua attrezzatura è chiara è chiaro che se tu ti sei comprata un monitor ben più come ad esempio come ad esempio questo fammi vedere se te lo sto mostrando come ad esempio questo ok che che ho ad esempio io sv271 ok che costa più di 1000 euro è chiaro che non puoi chiedere 15 euro per una foto ma semplicemente perché perché stai garantendo al tuo cliente una qualità che il cugino di turno non gli può dare semplicemente perché tu hai la garanzia che quando quella foto va in stampa cristo esce bene ok quindi ti stai facendo pagare anche per quello io infatti mi ricordo che quando cominciai ad avere i primi monitor professionali le mie tariffe non ti dico che si moltiplicarono ma quasi ok perché ti senti più sicura ti senti di dare un prodotto realmente impeccabile se non ti ho risposto abbastanza mi cerchi su facebook e continuiamo la chiacchia la chiacchiera ok gianluca mi piace molto il tuo approccio molto chiaro grande gianluca grazie mi fa piacere chiaramente potrei farvi anche una lezione di odio di otto ore ragazzi molto più tecnica ma penso che vi annoiereste magari un po mario wow grazie stavo tagliandomi una mano per arrivare in tempo ottimo intanto seguo ora è grande tenetemi aggiornato per altri webinar per altro cliente affezionato sin da videoproiettore 20 anni addietro grande mario la registrazione si avremo la registrazione alessia bravissimo martin ciò che hanno visto i nostri occhi eccellente senza trasformare le foto in caricature alessia bravi bravissima però c'è da dire che se ti serve una caricatura devi poterla fare però io sono sai che c'è tantissima gente che diceva però photoshop is the evil no photo alla post produzione alla manipolazione delle foto alla fotografia pura si è persa socavolate nel senso photoshop cam i camera raw dipende come li usi sono gli strumenti attuali di sviluppo delle foto quindi se li usi con una certa coerenza escono fuori delle cose interessanti se li usi male esce fuori il male chiara dice mi sfugge la differenza tra le alte luci e i bianchi e tra ombre e neri potresti provare a rispiegarla si provo a dirtelo in maniera facile immagina che ci sono aspetta mi apro la mia webcam così mi vedo immagina che ci sono due estremi ok e in mezzo ci sono altri due estremi quindi immagina che abbiamo i neri i bianchi le luce le luci e le ombre quindi sono cose molto simili tra di loro ma vanno ad agire su un range un po più ampio ok quindi se i bianchi li facciamo diventare completamente bianchi tutto diventa completamente bianco mentre le alte luci semplicemente aprono la luminosità questo è il metodo più semplice con cui cerco di spiegartelo senza entrare in tecnicismi troppo complessi ok come regoli la luminosità dello schermo quando editi una foto io lavoro con la luminosità massima e poi controllo di frequente con luminosità dimezzata ma le foto risultano comunque troppo scure su altri monitor la luminosità la regoli in base al tuo ambiente di lavoro ok questo è la prima cosa e devi avere un buon monitor devi avere un monitor affidabile calibrato correttamente a quel punto la luminosità del monitor in qualche modo almeno secondo me è una personale preferenza di quanta luce ti entra negli occhi se hai il problema che penso che tu abbia non è tanto una questione di luminosità quanto la quantità di dettaglio che ti fa vedere il monitor nelle luci o nelle ombre io quando tantissimi anni fa quando ero ancora uno studente lavoravo con portatile da 500 euro il portatile tendeva a una dominante blu ma io non essendo esperto per me quello era un grigio non lo vedevo perché poi i nostri occhi si abituano e io andavo a ritoccare tutti i dettaglini nelle ombre perché vedevo un sacco di informazioni lì poi quando stampavo quella foto la foto veniva scura e tutti quei dettaglini che vedevo io non c'erano poi nel tempo ho capito che non era un errore di stampa non era un errore mio ma era un problema di monitor perché un monitor ben calibrato quelle ombre tutti quei dettagli nelle ombre non me li avrebbe mostrati avrebbe chiuso quelle ombre infatti molto spesso quando lavoriamo sul monitor calibrato un buon monitor rispetto al monitor brutto di prima abbiamo la sensazione di vedere le ombre più scure e questo è più che normale perché così dovrebbe essere ok spero di averti risposto andrea da zurigo grande ciao un saluto anche a te santo dice è normale che ancora non senta l'audio dipende da quando hai fatto la domanda probabilmente l'hai fatta all'inizio ok ragazzi non ci sono molte domande l'altra domanda l'altra volta avevamo tipo una sessantina di domande sono ancora qua per un altro po se mi volete chiedere qualco allora la domanda che mi fanno tutti già che siamo qua ok tutti mi chiedono martin che monitor mi con i limiti mi compro allora vi faccio vedere semplicemente la differenza per potervi orientare ok ad esempio ad esempio sul sito di ben cui abbiamo ragazzi fate attenzione perché non vi sto avendo niente vi sto facendo capire una cosa importante abbiamo la distinzione tra due fasce di monitor quindi loro hanno fatto già la distinzione in qualche modo per noi ma fate attenzione perché questo vi aiuterà a scegliere il monitor allora i monitor in genere per la grave la grafica mi sto ammazzando e i monitor per il fotoritocco hanno una particolarità ok hanno una particolarità una grossa differenza che fa cambiare notevolmente il prezzo ovviamente in base al modello allora io non ho preso proprio il top di punta ma quasi i monitor dedicati alla grafica hanno lo spazio srgb ok 100 per cento srgb lasciate stare 4k 2k quelle sono cose che poi vedete voi se vi piace il 4k figo dagli questo ha anche il picco il p3 lo attaccate con la thunderbolt al macbook pro una figata ma concentriamoci sulla reale differenza e fate grafica graphic design e lavorate prettamente per il web vi serve lo spazio srgb stop tutto il resto è figata in più quindi se voi avete un budget che non arriva 8 99 trovi anche un pd a 450 euro ma è importante che abbia srgb più vicino al 100 per cento che poi dall'altra parte i monitor per la fotografia devono avere lo spazio srgb ma ma avere anche lo spazio adobe rgb più possibile al 100 per cento 99 per cento e oltre qualsiasi aspettativa di un creativo qualsiasi ok ti basta e avanza quindi questi monitor dedicati alla fotografia hanno sia srgb che adobe rgb quest'altri in genere hanno solo srgb questo ragazzi che vuol dire vuol dire che se sei un grafico e non ti compri quello adobe rgb seno sfigato no assolutamente no vuol dire che i grafici difficilmente avranno l'esigenza di lavorare con uno spazio colore adobe rgb mentre un fotografo è altamente probabile che prima o poi avrà a che fare con lo spazio di lavoro adobe rgb che vuol dire questa cosa vi racconto una cosa strana e poi andiamo in chiusura ma visto che state ancora qua figo allora non tutti sanno io sono di praga e spesso da piccolo andavo a chier con il treno perché prima era così ok negli anni 80 era così quando il treno arrivava alla frontiera con l'unione sovietica il treno alla frontiera veniva sollevato gli veniva tolto il carrello quindi le ruote e ne veniva messo un altro con le ruote più larghe una gru spostava quei vagoni da un binario all'altro quindi letteralmente tutto il treno da un binario all'altro perché in russia nell'ex unione sovietica i binari erano più larghi quindi questo si dice per evitare che i nazisti possano entrare nell'ex unione sovietica con i treni ok quindi semplicemente non potevano attraversare quella zona quindi si cambiavano letteralmente le ruote e credo che sia così ancora oggi l'adobe rgb e sim è simile se un fotografo ti da un file scattato con la mark 4 piuttosto con qualcosa in adobe rgb tu ritocchi in adobe rgb e lo mandi in stampa in un flusso di lavoro adobe rgb c'hai proprio la crema della crema perché vedi dei colori assurdi io vi dico ragazzi quando accendete non vedete i monitor ben più hanno questo telecomandino qua che vi permette di non andare dietro cambiare le cose c'è tu premi il numero 3 e lui ti passa in adobe rgb però vabbè a parte questa cosa fighissima se tutto il flusso di lavoro e in adobe rgb tu vedi i colori adobe rgb ricevi i colori adobe rgb mandi in stampa i colori adobe rgb hai il controllo sul flusso di lavoro ma se tu devi ritoccare una foto all'interno di un flusso adobe rgb ma il tuo monitor non è in grado di mostrarti quella quantità idilliaca di colori tu non puoi fare il lavoro fatto bene e quindi lo farai bene al 50 per cento al 70 per cento al meglio del tuo intelletto ma non potrai avere la garanzia che ciò che hai ritoccato è esattamente ciò che uscirà in stampa perché il tuo monitor non ti restituisce quella gamma enorme meravigliosa di colpa se però sei un grafico non te ne frega niente perché veramente è difficile che tu debba lavorare in adobe rgb quindi questa è la sostanziale differenza nella scelta martin quale monitor scelgo la prima domanda che faccio di che cosa ti occupi che cosa fai è in base a quello andiamo a scegliere qual è il monitor più adatto a voi fatemi vedere se c'è qualche altra domanda allora a claude dice non ci sono domande perché spieghi tutto in maniera fantastica e chiara grazie claudia troppo gentile ho fatto lo screenshot ciao martin webinar molto interessante come sempre cosa ne pensi dei monitor apple penso che sono dei monitor molto belli dal punto di vista di design ma non mi ci affiderei per un lavoro professionale sono assolutamente onesto come sono stato onesto in tutto il webinar il mio stile un pochino lo avete visto sapete che per me la mia parola viene prima di qualsiasi altra cosa se ti stai comprando un i mac ti becchi un monitor apple io la mia macchina principale un macbook pro che è sempre attaccato un display esterno della ben più perché ragazzi io devo dormire bene devo sapere che quando il cliente mi paga e poi manda in stampa o distribuisce il progetto su più media deve essere fatto a regola d'arte quindi per me questa è la cosa più importante come il discorso del treno io voglio arrivare in russia sapendo che ho tutto il necessario per poter camminare bene anche la allora ma se avete riempito di domande adesso raga allora sono arrivato un voto di domande minchino allora il codice sconto per i monitor a scadenza oppure posso usarlo anche più avanti non te lo so dire del te lo diranno adesso i ragazzi nella si è con scadenza si è con scadenza ok quindi è meglio che lo usate prima scadenza un mese mi stanno dicendo mi stanno dicendo ok eccovi ho ribeccato le domande ragazzi allora andiamo andiamo in riga cerco di essere veloci ragazzi quelli che non riesco a fare poi abbiamo deciso con i ragazzi di ben più che poi mi girano tutte le domande e poi rispondiamo sul canale facebook ufficiale di ben più quindi se non se non avete fatto ancora like sul canale ben più insomma italia andate andate a farlo come mai non hai usato la funzione crop sì l'avrei potuta utilizzare in quel caso non mi serviva non sentivo le necessità di croppare quella foto santo quindi conviene riportare la foto ciò che l'occhio ricorda o un mix tra ciò che piace di più e riteniamo più figo e ciò che ricordiamo ciò che funziona al fine della tua esigenza quindi la storia che vuoi raccontare ciò qual è l'obiettivo di quella foto quella la cosa più giusta questo secondo me è la risposta qual è la differenza tra camera raw photoshop e lightroom per quanto riguarda le modifiche di foto non c'è nessuna differenza utilizzano lo stesso motore quindi esattamente identico lightroom però è ottimizzato per gestire dei cataloghi di foto e quindi se scatti mille foto a botta è più comodo c'è la possibilità di tornare alla vecchia interfaccia grafica di camera raw grazie sei bravissimo dai e giuseppe lo vorrei tantissimo ma non credo non credo si possa fare non l'ho provato perché in genere quando fanno questi cambiamenti c'è un motivo credo che lo porteranno sulla ipad e quindi mi adatto martin sto per comprare un monitor ben chiù farai un webinar senza sulla calibrazione vorrei capire bene se serve solo per la stampa in generale se un monitor lo si deve sempre calibrare anche appena comprato grazie complimenti allora i monitor ben più professionali vengono già con un certificato di calibrazione quindi può andare sereno anche senza la calibrazione soprattutto quando la calibrazione avviene a livello hardware comunque ogni tempo è buono ricalibrare il monitor fondamentalmente la prassi come puoi avere la macchina più figa al mondo ma ogni tanto un po di olio glielo devi mettere non perché la macchina non va bene ma perché vuoi che vada sempre bene ok quando sarà pronta la registrazione molto presto nella mail di follow up troverete la registrazione del webinar oggi quindi nei prossimi giorni vi arriverà una mail di follow up da parte di BenQ e troverete nella registrazione ok quindi anche in quella mail ci saranno i codici sconto e tutto quanto la mail in genere arriva entro un giorno quindi ragazzi direi domani sera già ce l'avete pronti con le carte di credito insomma a parte i scherzi pronti a rivedere il webinar e cominciare a ritoccare le vostre foto giorgio è qui che si possono fare le domande yes chiara prego scusate raga vado un po in fretta voglio veramente rispondere a tutti come mio solito è utile correggere i parametri dell'obiettivo allora molto spesso se usi degli obiettivi particolari puoi selezionare una lista di obiettivi già precaricati e quindi lui ti corregge la distorsione in maniera più adatta a quell'obiettivo io ti dico la verità io lavoro più col retouching creativo quindi raramente mi metto a cambiare quel tipo di cose puoi fare delle prove e vedi se ti piace quello che esce fuori io penso che questo sia il miglior approccio cioè inutile fare troppo i guru in un lavoro che fondamentalmente deve esprimere la nostra anima non la nostra visione la nostra creatività quindi i ragazzi fate che ritorniamo all'immagine cioè facciamo comunicare l'immagine che abbiamo fatto e come sapete l'immagine si fa non in post produzione non in fase di scatto ma quell'istante in cui decidete di scattare qualcosa quindi i vostri occhi hanno visto qualcosa che vale la pena di essere raccontato ok in caso di un viaggio in un luogo nuovo è più corretto trasmettere la realtà oppure i sentimenti e stati d'animo di quel momento anche se contrastanti con l'ambiente della tua foto allora marcina guarda ci sono tantissimi webinar organizzati da ben più con tanti artisti ne ho visti alcuni proprio di travel di viaggio quindi resta aggiornato io ti posso dire la mia in caso di un viaggio in un luogo nuovo è più corretto trasmettere la realtà oppure i sentimenti e stato d'animo di quel momento dipende da chi sei dipende da che cosa vuoi raccontare se sei un reporter devi trasmettere le cose così come sono se invece magari è un momento della tua vita particolare puoi catturare delle scene che quando tra dieci anni riguarderai quella foto ti riporteranno esattamente a quel sentimento esattamente a quell'istante quindi io io ti direi segui ciò che ti dice il cuore no spero di averti risposto ma la verità è che le foto catturano dei momenti e quando rivedi la foto dopo tanto tempo è bello che quel è un po io penso che sia un po come con gli odori hai visto quando senti un odore di un profumo la pioggia e quell'odore fa quel trigger che ti riporta all'istante magari a 15 anni fa no a un determinato istante che ti eri dimenticato io penso che sarebbe bello che la foto riuscisse a fare esattamente la stessa cosa pedro ho visto che questa cr 2020 sembra molto capture one cosa ne pensi che la cr è ancora una lunga strada da fare prima di arrivare a capture one ma ha un vantaggio è enorme e che è integrato all'interno di camera raw e quindi è molto facile il flusso di lavoro e la verità è che per la maggior parte delle cose va più che bene gabriel martin grazie di tutto sei stato chiarissimo esaustivo pensi che il monitor sia un valido device per lo sviluppo fotografico no ho risposto prima penso che sia un bel oggetto di design ma ti garantisco che quando ti metti sulla tua scrivania questo oggetto di design il pd 2720 in quell'istante capirai perché ti dico ciò che ti dico ragazzi faccio una parentesi visto che siete ancora in 85 qua io la prima volta che ho avuto l'opportunità di accendere un monitor della ben più ho visto una brillantezza del colore così meravigliosa chi mi conosce sa che che è vero è una storia vera e tutti quelli che hanno acquistato questi monitor mi dicono cazzo scusate cavolo martin è vero c'hai ragione e ci hanno questa tecnologia i care che vi rilassa gli occhi mantenendo la brillantezza del colore è un qualcosa di pazzesco e fa sì che anche una persona come me che magari ritocca dalla mattina alla sera arrivi a sera che non ti togli gli occhi e non te li devi sciacquare nell'acqua cioè arrivi a sera che sei naturalmente rilassato e non ti fanno male gli occhi quindi semplicemente questo è un motivo per cui io ti direi che non è un buon device per lo sviluppo fotografico il monitor che mi dici gabriele perché non non fa attenzione a queste accortezze importantissime per un professionista che sta sul monitor dalla mattina alla sera per moltissimi anni capito questo secondo me è un elemento estremamente importante potresti far rivedere ma setting della foto e alberto non abbiamo più il tempo ma lo farò postare se me lo approvano sulla pagina di ben ok il modello sv2 40 da 400 spesso mi vedere oggi è che siamo qua sv sv2 40 questo allora fammi vedere un attimo monitor ben più 24 pollici ok perché magari non hai la scrivania che riesce a catturare un 26 guarda questo è come il 27 solo che da 24 ed è un hd quindi ha una risoluzione che non arriva al 2k ma è un monitor da paura vedi c'è il 99 per cento dello spazio ad obbieri gb stai contenuto con la spesa alla calibrazione hardware attenzione quindi neanche la software c'è la calibrazione hardware quindi ti becchi un monitor già calibrato di fabbrica signore e signori sembra che sto fa una televendita no è un ottimo monitor sai che però non stai al 2k o che non stai al 4k magari investi un pochino di più e ti porti a casa un 2k però se hai bisogno di un 24 pollici e restare in questo range di prezzo è un monitor da paura soprattutto guarda i bordi sottili io c'ho il fratellino maggiore e ti garantisco che i bordi sottili ti permettono di affiancare due monitor in una maniera pazzesca io ti do un go occhio magari solo ecco se la risoluzione per te va bene oppure no daniele ma mi quanto tempo e intanto un salutone complimentissimo è sempre che obiettivo ti porti per fare questi scatti altre domande non te ne faccio perché hai detto quasi tutto e allora per fare questi scatti ti dovresti portare un bel tele però io non ho mai avuto un tele questo mi sembra arrivava a 85 era un tamron qualcosa del genere la verità è che non l'ultimo safari nel quale sono stato mi ero portato la g7 x se vai sul mio instagram vedi le foto che ho fatto e grazie alla magia scatta anche in insomma tanta roba però per l'utilizzo che serve a me capito a me mi basta e avanza chiara ho fatto il workshop con te alla ilas della durata di otto ore quindi si ho imparato un sacco di grande chiara ok ok ho capito ho capito dai la registrazione ci verrà inviata yes domani sera in ogni caso super webinar per niente noioso grazie serena sono contento chi si annoia è finito grazie di tutto bisogna studiare almeno io complimenti grazie a maurizio ciao elena ciao anche a te francesco uso principalmente lightroom ma i consigli dati oggi sono ottimi anche per quel programma assolutamente sì li puoi prendere li trasli direttamente qua maurizio valida l'idea di abbandonare le regole a favore della creatività secondo me sì siamo troppo costretti nelle regole soprattutto in questo periodo bisogna uscire fuori comunque fantastico primo webinar ti ringrazio non vedevo l'ora di partecipare dai alberto segui anche gli altri della ben chiuso tutti così sono tutti fighi fighissimi certo non tutti saranno cool come me ma va bene filippo giusto devo comprarlo avete anche dei video su come calibrarli io ho qualche video sul mio canale su youtube però penso che anche ben più abbia fatto qualcosa giuseppe martin parli sempre di un buon monitor io monitor ben più ma in ogni caso utilizzo un calibratore spider pro per poter avere il massimo è consigliabile usare assolutamente è consigliabile usare un calibratore io ti consiglio quelli della xrite perché è veramente il leader del settore secondo me nettamente più avanti rispetto agli spider ma se hai lo spider va benissimo lo spider non li devi calibrare quando ti ha reti arrivano a casa ma di dipende poi dalla circostanza magari prima di ogni lavoro importante magari una calibratina gliela puoi dare devi avere la garanzia capito molto interessante come sempre ciao federica grande vede già bella ho già risposto su sugli altri monitor quello che ne penso claudia non ci sono domande perché spieghi tutto bene grazie la fabrizio martin sto per comprare un monitor ben più 240 faremo le versione del bezzo per capire bene se serve solo per la stampa ok non so se ti ho già risposto il monitor in genere lo devi calibrare sempre se è passato molto tempo da quando lo hai acquistato perché serve avere sempre c'è ragazzi tutto questo discorso è i colori devono essere quelli reali perché sennò a voi la quella cosa vi sembra un po più arancione poi lo vede poi lo mandate al cliente il cliente o vede dice ma che questo verde proprio così ma lo vorrei un po più insaturo e tu dici mica ma è mai già sa dell'insaturo e invece no avere la garanzia che l'immagine che mandate al cliente o sul web o quello che sia sia a regola d'arte secondo me è la differenza tra il cugino e il professionista o l'amatore di qualità inoltre volevo sapere se si possono attaccare in parete con il giusto attacco sì filippo lo puoi fare una domanda quando ci si rivede per una bella mangiata come l'anno scorso dai andrea ragazzi andrea andrea uno top andrea spero di ribeccarti presto veramente anzi molti scrivo iscrivono su facebook un pochino chi si rivede caramba emma ti ho risposto già sugli altri schermi già ho risposto a questa cosa elisa domanda se uno invece fa il digital artist concept artist e lavora prettamente in digitale ma poi ci sono occasioni in cui va prodotta roba per stampa cosa deve prendere esiste un compromesso allora io ti dico professionalmente dal mio punto di vista a me capita molto raramente di mandare in stampa io io in genere esporto il file in srgb e poi c'è tutto un flusso di lavoro che ci pensa alla stampa così almeno ragazzi lavora a livello professionale all'estero che voi lo vogliate o no so che tutti sperano di capire come si salva un file in cmsk ma vi dico è una boiata enorme e quindi ci sono dei service fatti apposta che poi convertono il file in base a come verrà stampato nel tuo caso secondo me devi prendere una netta decisione puoi prendere un ottimo monitor pd ok quindi di fascia alta perché tanto a te probabilmente l'adobe rgb non ti serve ma c'è un'occasione in cui ti potrebbe essere utile e a quel punto non ce l'hai quindi devi valutare questa cosa devi valutare io ti dico quante volte ti potrebbe capitare una su 50 forse nel tuo ambiente in questo istante con le informazioni che mi hai dato ti direi vai sulla serie pd dosta eccola qua prenditi un bel no ho cambiato completamente tutto ok scusate questa qua prenditi ad esempio il monitor che ho io poi se vuoi mi contatti su facebook e te lo linko non riesco a eccolo qua pd 27 u è un gioiello è un gioiello è una cosa assurda però se il tuo budget non ci arriva ok cioè non è che ti devi sentire una sfigata ok cioè c'hai altre c'hai altre opzioni con bordi ip iper sottili guarda ad esempio questo il pd 27 00 u c'è assolutamente accessibile ha anche il rec 700 hai fatto una domanda ottima tu fai concept art e matte painting a te ti serve un monitor in grado di visualizzare il rex e se 709 non tutti i monitor sono in grado di vedere il rex 709 quindi quando tu fai il matte painting con la concept art che poi va integrata in uno shoot di un film che è girato in rex 709 e tu io devi devi dare in re c'è corretto in rex 709 noi l'abbiamo visto al creative pro show avevamo un matte painter profili professionista e lui te lo conferma tra l'altro ci dovrebbe essere una sua review del monitor ben più proprio su questa cosa se tu non vedi lo spazio rex 709 come puoi consegnare alla produzione dei frame che vanno integrati nel film nella pellicola di proprio nel movie no non lo puoi fare ti serve quindi il rex 709 e come vedi è molto abbordabile guarda che bordi mamma mia bellissimo vabbè martin meglio un monitor lineare oppure curvo io i curvi non li ho mai provati ma penso per il gaming figo un curvo ma non lo so io sono old style io vado sulle lineare martin farai un webinar sulla calibrazione o un video sul mio canale youtube sulla calibrazione se gli vuoi dare un'occhiata dove troverò la registrazione vi verrà inviata domani sera insieme ai codici sconto martin se un grafico fa anche un po di post produzione delle immagini quale consigli se fai un po di post produzione ti consiglio la serie pd perché difficile che ti scontrerai con l'adobe rgb e se fossi sia un fotografo che un graphic designer dovrei prendere il monitor rgb per fotografi poiché può essere siena rgb in ti corrego non in rgb e in srgb può essere in srgb e in adobe rgb però se sei entrambe le cose ti dico realmente è difficile che ti capiti quel tipo di progetti ok quindi io se sei in questa fascia di mezzo ti dico prenditi un monitor professionale pd di fascia alta e hai la garanzia di avere un dispositivo assurdo è difficile che ti capiti quell'altra cosa ok c'è quando in genere sei tra le due cose vabbè ti parlo per venti anni di esperienza ok molto interessante mille grazie per le spiegazioni arianna prego siamo qui apposta puoi collegare un monitor esterno al tuo imac sicuramente sì non ti saprei dire come si fa credo con una usb c a questo punto ma non possiedo un imac sorry maurizio quale ti suggerisco ti suggerisco in questo caso quello che rispecchia lo spazio colore di cui hai bisogno come abbiamo detto se ad esempio fai matte painting uno spazio rec 709 lo devi avere se lo vuoi fare professionalmente non per gioco e poi vedi quello che ti permette la finanza le tue finanze che hai considerate ragazzi che la serie pd e sv è una serie professionale quindi qualsiasi monitor che avete la che scegliete va bene per un utilizzo professionale maurizio codice sconto quale sarebbe non so quale esattamente di quanto è ma domani sera vi arriva bruno ma la gran parte delle stampe dei laboratori non sono in srgb dipende dal laboratorio dipende dalla stampa a me capita la maggior parte delle volte srgb ma se lavori ad esempio come me mi capita spesso di ritoccare delle foto fine art di alcuni fotografi che non hanno voglia di dire che io ritocco le loro foto e poi espongono nelle gallerie d'arte e si stampano da soli le foto stampano in anche in altri altre modalità anche in adobe rgb e con altri spazi colore molto più ampi ok marcin dove posso scrivere le domande le stai scrivendo nel post giusto valeria ciao vale purtroppo mi sono potuto quello che la sola si potrai rivedere il webinar si può reinstallare la precedente versione di camera raw ci sarà ovviamente difficoltà nel momento in cui mi opererà a caricare ma dove si fanno le domande a martin esattamente qui maurizio farà io sono passata per questa lezione perché mi mancava il tuo entusiasmo dai grande torna a fare le live sul tuo canale facebook presto un saluto e grazie anche per il monitor ben chi l'ho già comprato lo scorso inverno sempre grazie a te una meraviglia ecco ragazzi vedete che non vi dico cretinate grande sarà daje filippo per domandare direttamente a me puoi scrivere esattamente dove hai scritto questa cosa ragazzi sto andando in chiusura perché sono due ore invece di un'ora potete continuare magari a farmi le domande sul mio profilo facebook e poi magari rispondiamo sul profilo ben chi grazie molto interessante sul serio no nel senso le domande che sto scrivendo lui le vede si le vedo io filippo le vedo io sereno le vedo io ben chi va questa cosa fighissima che non facciamo dei filtri martin quest'anno il creative pro show salta non salta ma vi devo aggiornare adesso io voglio un monitor dice arianna io non vedo l'ora di rimettere mano ai miei monitor a roma a me interessa capire se posso attaccare lo schermo al muro e basta si filippo puoi attaccare lo schermo al muro gabriele prego dai grande scusa mi sono perso quello che appena detto cosa mi perdo con un monitor che ha risoluzione mille anche 2k allora di base non ti perdi niente però più aumenti la risoluzione e più l'immagine è figa e più è nitida più e più è bella però meno vedi pixel ok però su questo monitor non è che vedi pixel serena però se riesci ad alzare almeno sul 2k secondo me nel nel 2020 è meglio così anche tu non hai mai avuto esatto esatto allora dovrei fare correzione colore dei video e mi piace fare correzione colore delle foto per passione mi conviene usare un monitor per la fotografia è più consigliato uno per la post video è qua hai fatto una bella domanda allora ci sono dei monitor specifici ben più per il video dei 32 pollici che hanno il rex 709 4k e io ti consiglierei a quel punto quello dai e marching assolutamente spero di pronunciare bene il tuo nome col mio si sbagliano sempre elisa sei stato illuminante dai e sono contento alessio come integri se lo integri camera raw nella creazione di un'immagine digitale ad esempio compositing matte painting considera che camera raw funziona anche come plugin esterno di photoshop tu qualsiasi layer che hai in photoshop lo puoi aprire in camera raw quindi vai lì smanetti giochi giochi con i colori ha molto più secondo me gioco sul colore rispetto a photoshop claudia aspetto con ansia dai e dai e ragazzi siete stati grandissimi avete resistito più della metà delle persone per due ore questa è una cosa fighissima io vi mando un abbraccio dal sud africa spero molto presto dall'italia grazie a ben più per aver ospitato questo monitor con me e avervi dato ovviamente la possibilità e a me la possibilità di interagire con voi spero che vi ho sciolto qualche dubbio su come scegliere il monitor più giusto e che vi ho dato un po di carica nel senso di pensare meno ai tecnicismi e di più all'arte creativa e alla fotografia pura domani vi arriveranno le varie mail di follow up e sicuramente faremo altre cose insieme per il resto contattatemi tranquillamente sulla mia pagina facebook e da me e da tutto lo staff di BenQ vi auguro una buona serata ciao ragazzi grazie a tutti